Paolo scrive così, evita le questioni sciocchie, siamo al capitolo 3, versetti 8 seguenti, evita le questioni sciocchie, le genealogie, le risse, le polemiche, eccetera, dopo un primo, e un secondo ammonimento sta lontano, che qui Paolo parla proprio di una distanziazione fisica, e questo lo dicevano anche i padri della Chiesa, San Girolamo raccomandava ai suoi, e anche Sant'Atanasio ancora prima, di non stare a contatto fisico con gli eretici perché, come dice Policarpo, San Policarpo di Smirne a Marcione, se sei il primo genito di Satana, io che devo dirti, non voglio avere nulla a che fare con te, seguivano la scrittura, figlioli cari, ma la Chiesa ha sempre fatto così, oggi c'è una promiscuità per cui in una messa